Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi ho una notizia del quale molto probabilmente qualcuno di voi ha già visto che mi lascia veramente perplesso, devo dire la verità. Devo ricontestualizzare le cose. Nei giorni scorsi ho fatto dei video in cui parlavo di questa dichiarazione di Studio 397 Motorsport Game che con un comunicato ufficiale dichiaravano di non aver mai ceduto le licenze per l'utilizzo del proprio codice soprattutto per quanto riguarda la fisica. E questo a seguito di una segnalazione di un utente che diceva di aver trovato una parte di codice praticamente uguale su Rainsport. La botte risposta è stata immediata da parte di Rainsport che dichiara con un comunicato ufficiale che assolutamente tutte le parti che sono state prese, che tutte le parti che compongono Rainsport sono fatte o in casa da Rainsport oppure prese con regolare licenza. Devo dire la verità, sulle dichiarazioni di Studio 397 Motorsport Game ero rimasto un po' così perché soltanto con un codice così da un utente che non si capiva troppo da dove arrivava mi sembrava una specie di botte risposta e con una risposta così disinvolta da parte che c'è in cui spiega che sono orgogliosi del prodotto eccetera eccetera mi sono detto vabbè magari ci sarà qualche avvocato che avrà da fare però finita lì ma a parte questa notizia bomba che è uscito il nuovo servizio online di Rfactor 2 che vi invito a guardare il video che ho fatto proprio ieri questo quindi rappresenta una bomba ieri un altro comunicato di Rainsport mi lascia perplesso e che mi lascia comunque riflettere il comunicato parla di un'immersione più profonda nella fisica di Rainsport il team di sviluppo rilascia un comunicato in cui spiega che malgrado abbiano tentato di creare il codice da zero eccetera per lo sviluppo di Rainsport si sono resi conto che molto probabilmente partire con delle basi già fatte e cercare di integrarle tra i vari moduli che hanno e le loro idee e comunque cercare di migliorarle e perfezionarle avrebbero messo molto meno tempo che partire da zero in cui avrebbe sicuramente necessitato anni e anni di sviluppo quindi una scelta ragionevole ovviamente per essere al passo con i tempi e per non avere dei tempi biblici in cui la gente aspetta il tuo Rainsport che esce e fin qui tutto ok secondo me questa dichiarazione arriva con una tempistica sbagliata vi spiego Rainsport dichiara di aver comprato la licenza per utilizzare la tecnologia Easy quindi il motore fisico di Easy ragazzi ora io non è che voglio pensare male però capite bene che mi viene il dubbio per chi non sa chi è Easy ragazzi Easy è lo sviluppatore di R Factor 1 R Factor Pro e dal 28 marzo 2013 da quando c'è stato il lancio di R Factor 2 quindi vuol dire che ci sono ancora anni prima di far uscire il gioco quindi per 5, 4, 5, 6, 7 anni stavano sviluppando già R Factor 2 fino al 2016 in cui poi hanno ceduto i diritti a Studio 397 e poi conosciamo la storia in cui Studio 397 riprende il lavoro di Easy con una list to do infinita riescono a migliorare eccetera eccetera e in più alla fine riescono anche a perfezionare un moledello di gomma che arriva un anno fa quindi c'è uno sviluppo dal 2016 al 2022 più o meno se sono giusto con i tempi segni di sviluppo in cui perfezionano questo modello ma il modello fino al 2016 che era super valido ok lo ha sviluppato Easy quindi oggi Rainsport mi stai dichiarando che stai utilizzando la fisica di R Factor 2 anche se è la prima ma è sempre di R Factor 2 quindi oggi questo tipo di dichiarazione avvalla quello che erano le supposizioni di Studio 397 Motorsport Game quindi sicuramente Easy avrà fatto la sua parte ora io sto ipotizzando non sto accusando ma a livello di immagine che è lì che rimango un po' sorpreso di questa mossa di comunicazione che doveva arrivare prima che questo vaso di Pandora si aprisse ragazzi Rainsport è un connubio tra la grafica di assetto corsa competizione perché oggi non lo possono negare ragazzi un Real Engine 5 con gli stessi problemi di ghosting che aveva ACC all'inizio nel 2018 hanno parlato di tracciati in laser scan presi su licenza quindi già pronti perché così non spendono 100.000 euro per fare le scansioni e perdersi il tempo di fare la modellazione eccetera quindi risparmiano tanto tempo e da chi li prendono? chi è un altro gioco su Unreal Engine? Forza Motorsport? non credo che ci sia questa cioè non lo so mi sembra più che QNOS abbia potuto concedere in licenza sono sempre supposizioni ragazzi ma tornando al discorso di immagine ma che cosa ti costa di dire? sì abbiamo il modello di Easy lo abbiamo preso d'accordo abbiamo pagato la licenza e la stiamo utilizzando e stiamo riuscendo a fare il connubio tra una grafica spettacolare di Unreal Engine 5 e in più anche questo motore fisico che è uno dei migliori perché Easy comunque ha fatto la storia ma che male c'è a dichiararlo anzi saresti stato elogiato cavolo stai facendo un connubio bellissimo cavolo la fisica di Refactor 2 comunque anche se è la prima e la grafica spettacolare di ACC cavolo ora tu mi stai facendo questa mostra dove dici noi abbiamo implementato personalizzato passa in secondo piano perché lo fanno tutti alla fine questo di implementare fare le cose in casa eccetera che poi le cose in casa che fai? ti stai prendendo i modelli degli altri li stai migliorando va bene ok poi li unisci tra di loro ma dillo prima è una mostra sbagliata questa io non so cosa ne pensate ragazzi ed è una bomba atomica una bomba atomica per la credibilità di Rainsport perché io un attimino due domande me le faccio perché non me le hai detto prima e me lo dici il giorno dopo che c'è stata la dichiarazione del tuo CEO che dice no tutto fatto in casa tutto regolare perché il CEO non dice sì è vero abbiamo le licenze che abbiamo pagato di Easy ma non abbiamo copiato nulla quindi avrebbe potuto rimandare la palla a Easy dicendo beh se Easy mi ha dato il codice di Rfactor 2 che non mi deva dare sono cazzi sua capite qual è il mio discorso quindi è una bomba a livello di marketing e di comunicazione che non fa bene a Rainsport poi ovviamente io sto esprimendo la mia opinione e il fatto che rimango abbastanza colpito da questo tipo di mossa a livello di comunicazione che secondo me perché comunque parlano di quello che vogliono fare quali sono i progetti la direzione che vogliono sì tutto bello ma intanto tu stai dicendo che comunque sei hai preso una parte di Easy e Easy è strettamente collegata a Rfactor 1 e Rfactor 2 in particolare sì nel 2016 come dicevo quindi ragazzi sono curiosi di sapere cosa ne pensate voi vi invito a lasciare un commento qui sotto se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in su iscrivetevi al canale tanto è gratuito noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio ciao ciao